Atteso nelle prossime ore il parere dell'EMA sul vaccino monodose di Johnson & Johnson bloccato anche in Europa dopo lo stop precauzionale negli Stati Uniti per sei casi sospetti di trombosi. Meno di uno su un milione, precisa il birologo Fauci, in Danimarca voci di un blocco definitivo di AstraZeneca, ma l'Unione Europea non rinnoverebbe contratti con AstraZeneca e Johnson & Johnson per il 2022. In attesa di un via libera in Italia sono bloccate a pratica di mare le confezioni del vaccino americano. Nei prossimi giorni sono attese un totale di 4 milioni e 200 mila dosi, ma l'incertezza rischia di condizionare pesantemente il piano delle vaccinazioni che entro fine mese sarebbe dovuto arrivare a 500 mila immunizzazioni al giorno. 40 miliardi di euro per sostenere l'economia italiana. Si tratta del primo scostamento di bilancio chiesto dal governo Draghi in discussione nel Consiglio dei Ministri in corso. Entro i primi giorni di maggio poi è previsto il balo del decreto sostegni bis. L'esecutivo attende i dati di questa settimana per valutare le prime riaperture, forse già a fine aprile. Il governo entro il 30 aprile deve presentare il piano per ottenere i fondi del Next Generation. Accelera Draghi che domani incontrerà Lega e 5 Stelle. Venerdì PD e Forza Italia e lunedì Italia Viva, ma anche Giorgia Meloni. Allarma intanto dall'Ox per l'Italia prioritaria l'efficienza della pubblica amministrazione e la crisi Covid rischia di aggravare le disegualianze. Si accende la corsa delle elezioni a sindaco. Per Roma Letta chiede primarie una coalizione a sostegno provocando la reazione di Calenda pronto a correre da solo. Nessun passo indietro dalla sindaca Raggi che mette così a rischio la coalizione PD 5 Stelle alla luce anche del possibile sostegno pentastellato di Beppe Sala a Milano. Ripresi gli scontri nel Donbass, la regione separatista filorussa dell'Ucraina, morto un militare di Kiev e tre feriti. Mosca accusa la Nato di ammassare ingenti truppe al confine baltico. Provocazioni, replica Berlino, segnali di disgelo diplomatico con la proposta avanzata ieri da Biden. In un vertice con Putin in un paese terzo. Esamineremo la proposta, fa sapere il portavoce del Cremlino. Eliminate rispettivamente Bayern Monaco e Porto sono il Paris Saint Germain e il Chelsea le prime semifinaliste della Champions League. Questa sera conosceranno il nome delle avversarie tra Real Madrid e Liverpool, si parte dal 3-1 dell'andata, e Manchester City. Borussia Dortmund 2-1 salve le gare dell'europeo in Italia dal governo ok alla parziale apertura al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. Buongiorno e benvenuti al telegiornale A7. Cominciamo proprio dai vaccini, perché dopo i limiti di utilizzo imposti sul preparato di AstraZeneca, adesso lo stop di Johnson & Johnson rischia di creare non pochi problemi al buon andamento della campagna vaccinale nel nostro paese. Sul preparato della multinazionale infatti si riponevano grandi speranze, sento di facile conservazione e monodose. Potrebbe però trattarsi solo di uno stop temporaneo e con ogni probabilità però ci saranno delle restrizioni in base all'età, come appunto già avvenuto con AstraZeneca. Partiamo da qui. E' a tutti gli effetti una falsa partenza quella del vaccino monodose Johnson & Johnson, soprattutto per il mercato europeo che lo aspettava per rilanciare il piano di immunizzazione che ora attende il parere dell'Agenzia Europea del Farmaco, parere che dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il prodotto, come è noto, è stato messo in pausa negli Stati Uniti per valutare bene i pochi casi di reazioni avverse che sono stati registrati. Si tratta di problemi legati a coaguli riscontrati in 6 donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni. Una di queste è morta mentre una seconda in Nebraska è stata ricoverata in condizioni critiche. E' una decisione presa per estrema cautela. Sono eventi estremamente rari, 6 casi su quasi 7 milioni di dosi somministrate, il che vuol dire meno di uno su un milione, spiega l'immunologo Anthony Fauci, che sottolinea come lo stop servirà all'FDA e al CDC di indagare e chiarire quanto avvenuto. Il tutto anche per evitare la confusione fatta su AstraZeneca, che ha manifestato problemi simili e che, notizia di poco fa, la Danimarca dovrebbe bloccare definitivamente. Lo stop a Johnson & Johnson non avrà un impatto significativo sul piano vaccinale statunitense perché il paese ha sufficienti dosi di Pfizer e Moderna, sicura la Casa Bianca. Beati loro perché invece l'Europa fa molto affidamento su questo prodotto. Le prime dosi sono arrivate ieri e per il momento sono in stand-by, mentre la spedizione di tutte le altre verrà ritardata dagli Stati Uniti in attesa del parere degli organismi competenti, che stanno condividendo le informazioni con l'EMA, che si è limitata a spiegare che per il momento non esistono prove di un nesso tra i casi di trombosi e il prodotto in questione. Ma intanto Bruxelles sta lavorando ai contratti per i vaccini anti-Covid anche per il biennio 2022-2023, dal momento che per conservare l'immunità saranno necessari richiami periodici o addirittura vaccini modificati per neutralizzare le varianti del virus. Secondo indiscrezioni non confermate ufficialmente, la Commissione europea non avrebbe intenzione di rinnovare i contratti con AstraZeneca e Johnson & Johnson, concentrandosi invece su Moderna e Pfizer, nonostante quest'ultima voglia aumentare sensibilmente il prezzo, portandolo a 19 euro e mezzo a dose. La campagna vaccinale dunque prosegue in base alle direttive che di ora in ora vengono comunicate dalle agenzie e dagli enti regolatori e sono state distribuite, sono in corso le distribuzioni in queste ore alle regioni, di un milione e mezzo di dosi di Pfizer che sono arrivate questa mattina in diversi aeroporti italiani. Dunque un numero consistente nella speranza che si possa presto anche tornare a vaccinare con Johnson & Johnson. Lo stop al vaccino di Johnson & Johnson durerà solo qualche giorno, ne è convinto Nicola Magrini, direttore dell'agenzia del farmaco AIFA, una pausa necessaria voluta dall'ente regolatore americano per verificare l'origine di quei casi di trombosi molto rare che sembrano così simili a quelli osservati in Europa su una minoranza dei 35 milioni di immunizzati. Episodi però così infrequenti, ricorda Magrini, da essere al limite della valutabilità. È plausibile pensare, spiega il direttore dell'AIFA, che questo fenomeno sia limitato ai vaccini che utilizzano un virus, visto che non sono state rilevate trombosi cerebrali collegabili ai vaccini prodotti con la tecnologia dell'RNA messaggero, come Pfizer o Moderna. La sospensione durerà due o tre giorni, rassicura anche Guido Rasi, microbiologo ed ex direttore dell'Agenzia Europea del Farmaco, e riprenderemo presto. Per il momento in Italia lo stop del vaccino monodose non dovrebbe portare gravi conseguenze, visto che ne sono arrivati quantitativi limitati, 184 mila dosi. Quindi la sospensione non dovrebbe rallentare la campagna vaccinale, anche se per marciare a ritmo sostenuto ha bisogno di ogni somministrazione possibile. Una spinta considerevole arriva intanto da Pfizer, che oggi ha consegnato un milione e mezzo di dosi. Se però si guarda tutto il trimestre, i quantitativi ordinati del monodose statunitense sono 7 milioni e 300 mila, e ci servono tutti. Una strada possibile per l'Italia è quella di riservarlo, come AstraZeneca, a chi ha più di 60 anni. E dunque, questo è il punto, forse ci sarà qualche ritardo, bisognerà rimodulare il piano per categorie, bisognerà vedere quali vaccini riservare, a chi ha meno di 60 anni. Finora sono oltre 4 milioni le persone vaccinate con due dosi di antidoto, quasi 13 milioni e 600 mila le somministrazioni effettuate. Desta attenzione la categoria altro, comprende oltre 3 milioni di persone. La struttura commissariale vuole sapere chi siano, se lo chiede anche l'antimafia in Calabria. Di certo ci sono i detenuti, il personale carcerario, i fragili, la fascia d'età tra i 60 e 69 anni, chi è stato reclutato all'ultimo per non perdere le fiale, Badanti e chi altro. Due procure indagano su possibili furbetti del vaccino. A Doristano sono indagate 15 persone, tra medici e infermieri, per aver somministrato Pfizer e i propri familiari senza che ne avessero diritto. Stessa indagine ad Agrigento, dove alcune persone, parenti di sanitari, avrebbero ricevute indebitamente l'anticovid. Per capire meglio che cosa sta accadendo, abbiamo chiesto un parere autorevole al professor Garattini, fondatore dell'Istituto Medio Negri, scienziato farmacologo. Il messaggio che ci dà e che sentirete tra poco è molto chiaro, i rischi esistono in qualunque tipo di medicinale, ma i benefici sono davvero molto superiori, soprattutto in questo caso. Sì, è uno stop che sarà assolutamente temporaneo di pochissimi giorni, che però ha un aspetto positivo che non viene mai sottolineato, cioè vuol dire che si sta molto attenti, perché se si riesce a capire che c'è un effetto collaterale su un milione di persone trattate, vuol dire che c'è una grande attenzione agli effetti collaterali. L'aspirina, per esempio, dà emorragie gastriche in un caso su mille trattati. Non ci sono farmaci innocui e quindi non ci sono neanche vaccini innocui. Invece i benefici sono enormi, perché guardiamo a quello che è successo in Israele, a quello che è successo in Inghilterra. E poi c'è una nuova generazione di vaccini allo studio, che potrebbe essere il futuro. Sì, beh, questo ancora vedremo. Vedremo, è difficile fare gli indovini. Speriamo che ci siano anche vaccini che possano essere più maneggevoli, più sicuri. Insomma, questo è il compito della ricerca scientifica. Però bisogna ricordarci che la ricerca scientifica può produrre solo se viene aiutata. in Italia abbiamo l'idea che la ricerca sia una spesa. Noi dobbiamo accelerare e dobbiamo anche produrre i vaccini in Italia, perché non bisogna dimenticare che è un problema mondiale. Noi dobbiamo vaccinare non soltanto gli italiani, ma anche tutti i cittadini dei paesi a basso reddito, perché se non lo facciamo il virus continua a circolare, continuando a circolare ci saranno delle varianti che si formano, queste varianti ritorneranno da noi. A volte si ha la sensazione che sia anche un po' una guerra commerciale questa tra i vaccini. Può essere? Beh, non bisogna dimenticare che ci sono enormi interessi economici in gioco. Io credo che sia un po' scandaloso che le stesse industrie produttrici, le multinazionali, non abbiano spontaneamente messo a disposizione i loro brevetti, perché si possa produrre il vaccino per tutti. Vaccino per tutti, anche perché al momento siamo davvero ancora molto lontani da quella copertura necessaria per tentare una vera e propria ripartenza per riaprire a tutti gli effetti l'Italia, il commercio, il settore turistico. La situazione è continua a rimanere davvero molto difficile. L'estate si avvicina. Questa è stata la seconda Pasqua di chiusura. In molti sperano di poter ricominciare a lavorare. Naturalmente tutto questo dipenderà dall'andamento dei contagi. Domani si riuniscono i presidenti della regione proprio per parlare di questo in vista del incontro al Ministero con la Ministra Gelmini. Coprifuoco spostato a mezzanotte in ristoranti, nelle zone gialle aperte anche la sera. Le proposte delle regioni su come, quali settori, far riaprire verranno discusse domani mattina nella conferenza dei governatori che precederà l'incontro con il Ministro Gelmini previsto per il pomeriggio. Le linee guida degli enti locali saranno messe a punto in serata protocolli per consentire una ripartenza in sicurezza che dovranno essere vagliati dal comitato tecnico-scientifico e poi approvati dall'esecutivo. Quello che è certo è che il ritorno alla normalità dipenderà anche dal piano vaccinale, dai dati sui contagi e soprattutto sarà graduale. Ma l'incertezza maggiore riguarda la data in cui cominceranno ad essere allentate alcune restrizioni per bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri. Insomma tutti quei settori che in queste ultime settimane hanno dato vita a forme di proteste e in alcuni casi sfociate in scontri di piazza. L'ultima manifestazione questa mattina a Roma con un gruppo di lavoratori dello spettacolo che ha occupato il Globe Theatre a Villa Borghese chiedendo una riforma strutturale del settore. Se verranno autorizzati eventi sportivi negli stadi ha detto pochi minuti fa il Ministro della Cultura Dario Franceschini le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli. L'ipotesi è che alcuni divieti possano cadere già a fine aprile ma a maggio sembra la data più probabile per accogliere le istanze dei commercianti e delle categorie messe in ginocchio da una crisi che dura ormai da più di un anno. Molto dipenderà dai dati che arriveranno venerdì dalla cabina di regia di Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità che potrebbero certificare un nuovo calo seppur ancora piuttosto lento di indice di trasmissibilità e incidenza del virus. Ieri i contagi sono stati 13.447 in 24 ore con l'indice di positività che decrementa nuovamente arriva al 4.4%. Va meglio anche la situazione negli ospedali dove diminuisce la pressione sia nei reparti covid che nelle terapie intensive. Resta purtroppo altissimo invece il numero dei morti anche ieri i decessi sono stati 476 in un solo giorno le vittime del covid in Italia dall'inizio della pandemia sono oltre 115.000. In attesa di un possibile allentamento delle restrizioni il governo intende venire in aiuto nuovamente a tutti quei cittadini a quelle piccole e medie imprese così gravemente piegate dal covid per questo questa mattina nel consiglio dei ministri si è discusso di un nuovo scostamento di bilancio il ministro dell'economia Daniele Franco ha proposto 40 miliardi di euro che dovranno necessariamente essere sottoposti al baro e al voto dunque all'approvazione del Parlamento italiano appunto per cercare di dare una nuova linfa insomma dare il tempo a chi è riuscito a sopravvivere fino a questo momento per poter poi nel futuro ripartire Nel consiglio dei ministri terminato poco fa non c'è stato alcun voto sul nuovo scostamento di bilancio tutto rimandato domani quando un nuovo consiglio dei ministri dovrebbe votare assieme allo scostamento anche l'ok al documento di economia e finanza lo scostamento di bilancio sarà di circa 40 miliardi di euro 35 per il decreto sostegno e bis da varare probabilmente i primi giorni di maggio e necessari per continuare ad aiutare imprese lavoratori e famiglie sempre più colpiti dalla crisi gli altri 5 miliardi circa saranno destinati agli investimenti pubblici per quelle opere che rimangono fuori dal perimetro del recovery plan se i 40 miliardi di extra deficit fossero confermati sommati ai 32 chiesti dal precedente governo e serviti per il primo decreto sostegni sarebbe già a quota 72 miliardi l'indebitamento del 2021 indebitamento che dovrà avere l'ok dal Parlamento ed è un atto ritenuto necessario dal governo che vuole intervenire su due fronti aiutare le categorie più colpite dalla crisi sostenendole fino alla fine della pandemia e puntare ad una ripresa dell'economia tra giugno e luglio con il decreto sostegno e bis infatti saranno confermati nuovi ristori a fondo perduto questa volta saranno calcolati su due mesi e non su uno solo come previsto dal primo decreto vedremo poi se sarà ampliata ulteriormente la platea dei beneficiari e quale la dote a loro destinata i meccanismi di erogazione saranno uguali a quelli già scattati e basati sulla perdita del fatturato ma sarebbero in arrivo anche sconti sugli affitti delle attività commerciali e il blocco delle tasse si pensa all'esonero ad esempio della TOSAP e della COSAP per tavoli all'aperto dei ristoranti e ambulanti non più fino al 30 giugno ma per l'intero anno nel pacchetto spazio poi alla liquidità delle imprese e alta la probabilità di una proroga delle garanzie pubbliche per incentivare le banche a derogare prestiti alle aziende in difficoltà ma quello che farà davvero la differenza per la ripartenza del nostro paese è sicuramente il denaro che arriverà dai fondi del recovery plan si parla di tantissimi soldi che serviranno per una vera e propria rifondazione a medio e lungo termine per creare infrastrutture per snellire la burocrazia lottare contro la corruzione ormai i termini per la presentazione a Bruxelles del piano di ciascun paese stanno per scadere per questo il presidente del consiglio Mario Draghi incontrerà a breve tutte le forze politiche presenti in Parlamento per discuterne ancora Il governo deve stringere sul piano da presentare in Europa per ottenere i fondi del Next Generation EU entro il 30 aprile i progetti vanno portati a Bruxelles da dove proprio oggi si annuncia che un anticipo dei fondi potrebbe arrivare già a luglio agli stati che arriveranno primi e dunque Mario Draghi incontrerà nei prossimi giorni i partiti della sua vasta maggioranza per discutere di recovery e anche del sostegno alle imprese che sarà materia del prossimo decreto domani sarà la volta di Lega e 5 Stelle poi seguiranno PD Forza Italia e Italia Viva da consultare anche l'opposizione di Fratelli d'Italia in queste ore arriva sul paese l'ennesimo scossone dell'Ocse l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico dei paesi più avanzati e dunque l'Ocse presentando il suo report annuale sulla crescita alla presenza del ministro del tesoro Daniele Franco valuta che l'Italia con la crisi pandemica corre il rischio di aggravare le sue storiche disuguaglianze penalizzando i giovani e i lavoratori più vulnerabili con uno scarso livello di competenze nota dolente anche quella dell'occupazione con un tasso che secondo Eurostat ci colloca in una posizione peggiore di quella della Grecia drammatico il dato dell'occupazione femminile al 49% 13 punti e mezzo sotto la media UE cruciale per la crescita ribadisce l'Ocse è la riforma della pubblica amministrazione a cui sta lavorando il ministro Renato Brunetta per migliorare la gestione degli investimenti pubblici e rendere più efficace l'assegnazione e il coordinamento delle azioni pubbliche proprio in vista dell'utilizzo delle risorse del Recovery Plan Ecco e di Recovery Plan ha parlato questa mattina la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen che tra l'altro poco fa ha sottolineato come l'approvvigionamento di vaccini con 50 milioni di dosi aggiuntive appunto saranno è previsto nel secondo trimestre a partire dal mese di aprile dunque un'accelerazione da parte della Casa Farmaceutica americana Pfizer Il 30% delle risorse del Recovery Plan ha invece detto Ursula von der Leyen arriverà dai Green Bond ovvero buoni del tesoro Verdi La Presidente della Commissione Europea dice questo nei giorni in cui si va definendo meglio l'impalcatura del piano di ripresa post-Covid da 800 miliardi Chi prima arriva prima viene servito No, non sta parlando di un posto a tavola il commissario europeo per il bilancio Johannes Hahn sta parlando di soldi quelli del Next Generation EU perché oggi a Bruxelles è stato il giorno in cui finalmente la Commissione ha tirato fuori la cassetta degli attrezzi ovvero gli strumenti con i quali il piano da 800 miliardi verrà finanziato e con quali tempi e dunque innanzitutto chi presenta per primo il piano la scadenza ricordiamo è la fine di aprile avrà diritto per primo ai soldi un anticipo dice Hahn pari al 13% che significa circa 45 miliardi pronti in cassa già da luglio gli altri a settembre anche perché il piano deve essere presentato e approvato sia dalla Commissione che dal Consiglio Europeo dunque è meglio sbrigarsi sì ma chi metterà i soldi gli investitori i mercati a cui ad esempio verranno offerte obbligazioni verdi lo twitta la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen sempre stamane il 30% delle risorse scrive sarà raccolto attraverso Green Bond così gli investitori sapranno che se investono in Europa investono nella salute del nostro pianeta ma non è tutto ci saranno obbligazioni ad un anno ma anche a 30 anni come noto la previsione di finanziamento è di 806 miliardi da restituire entro il 2058 sempre che ovviamente tutti gli stati membri ratifichino il trattato cosa che per ora non è accaduta ma Han non dispera mentre è decisamente ottimista il Vice Presidente della Banca Centrale Europea Luis De Guindos che oggi è andato al Parlamento Europeo a presentare il rapporto annuale della banca dopo aver valutato una ripresa economica dell'Eurozona non prima del secondo trimestre del 2022 De Guindos ha detto una cosa importantissima ovvero che gli strumenti finanziari del Next Generation EU la cassetta degli attrezzi di cui sopra non saranno un unicum potenzialmente ha detto aprono alla possibilità di ricorrere a misure simili anche in futuro insomma un altro passo verso un debito comune europeo con buona pace degli stati frugali il contesto dunque in cui si muove la politica italiana è sicuramente quello europeo ma anche quello locale di non poca importanza infatti la gestione amministrativa di una capitale come Roma ormai mancano sei mesi alle prossime elezioni amministrative e la partita che si gioca è quella della candidatura al sindaco il mio obiettivo è arrivare al secondo turno perché lì come dicono i sondaggi batterei la raggi di 20 punti Calenda è sicuro di poter conquistare il Campidoglio anche senza l'appoggio del PD al quale sembra aver rinunciato dopo che il segretario Dem ha rilanciato le primarie per le amministrative sono un errore ripete oggi il leader di azione in un'intervista alla stampa Letta dice primarie ma il PD lavora con Conte per far ritirare la raggi e lanciare un candidato unico e se ci sarà è ovvio che le primarie non si faranno puntualizza Calenda finora unico candidato in campo insieme alla sindaca uscente Virginia Raggi nome divisivo per i Dem e parte del movimento che ostacolerebbe una candidatura unitaria PD 5 Stelle che ancora non c'è senza contare che il raggi ha detto più volte che nonostante le pressioni a farsi da parte non intende ritirarsi il progetto di una futura alleanza fra Dem e Grillini è indigeribile per il leader di azione ho detto a Letta di essere disponibile in ogni momento a decidere insieme squadra deleghe e programma ma ciò a partire dalla mia candidatura afferma rivendicando il lavoro fatto in questi mesi sul territorio è deciso a portare avanti la sua proposta civica che si rivolge ai cittadini a prescindere dall'orientamento politico a sei mesi dal voto amministrativo le candidature nella capitale sono dunque ancora in alto mare Zigaretti che secondo i sondaggi è quello con maggiori possibilità di vittoria ripete che non è interessato perché vuole finire il suo mandato alla regione mentre l'ex ministro dell'economia Roberto Gualtieri non ha ancora sciolto la riserva con il PD anche i 5 Stelle navigano ancora a vista nessuna novità anche sul fronte centrodestra dove l'unico nome resta quello di Guido Bertolaso sostenuto da Forza Italia e Lega le primarie invocate dal PD potrebbero invece essere la strada giusta per la coalizione di centrosinistra nelle città di Torino Bologna e forse Napoli dove ancora non è sceso in campo nessun aspirante sindaco a Milano invece la ricandidatura del sindaco uscente Beppe Sala centrosinistra rende di fatto impossibile il patto fra Demme e 5 Stelle anche qui il centrodestra non ha ancora fatto nomi anche se è rispuntato quello dell'ex primo cittadino Gabriele Albertini vediamo ora che cosa accade in Val di Susa perché da giorni cresce la tensione tra manifestanti no Tav e forse dell'ordine la tensione in Val di Susa cresce la guardia non si abbasserà almeno fino al fine settimana quando è prevista una tre giorni di campeggio in quello che è diventato il nuovo terreno di scontro della lotta al Tav San Didero paesino di 300 abitanti all'inizio della valle ieri per 24 ore è stato sotto assedio con manifestanti e polizia a fronteggiarsi fino a sera è qui che lunedì notte sono arrivati gli operai scortati dai blindati delle forze dell'ordine per recintare il cantiere dove sorgerà l'autoporto trasferito da Susa pronta a diventare la stazione internazionale della linea ad alta velocità l'ennesimo passaggio delicato della storia del Tav segnato ogni volta da scontri e caos finito con quattro feriti in modo non grave tra i quali un operaio della Telt il vicequestore colpito al petto da una pietra lanciata dai manifestanti secondo quanto comunicato dalla questura feriti anche alcuni attivisti notav che hanno denunciato sono stati sparati lacrimogeni ad altezza uomo 5 notav sono ancora nella vecchia struttura presidio all'interno del cantiere e non hanno intenzione di spostarsi da lì a sostenere i manifestanti ci sono alcuni sindaci della valle mentre a chiedere di fermare le violenze una maggiore presenza dello Stato a protezione anche degli operai del cantiere ieri è intervenuto il sindacato che si è unito al coro delle associazioni dei costruttori c'è un'altra questione che sta a cuore a Eno Tav e rischia di diventare un altro tema dello scontro la scarcerazione di Dana Laureola la portavoce del movimento condannata a due anni di carcere per aver partecipato a una protesta le cui ragioni esponeva col megafono a un casello autostradale e per non aver rinnegato la lotta al Tav per lei si sono mobilitati europarlamentari consiglieri regionali e società civile oggi il tribunale di sorveglianza dovrà decidere se concederle oppure no le misure alternative al carcere e sempre oggi è attesa una nuova manifestazione a San Didero adesso le notizie dell'estero perché dovrebbe arrivare oggi l'annuncio ufficiale da parte di Washington nel ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan questo dovrebbe avvenire entro l'11 settembre che è naturalmente una data simbolo per l'operazione americana in quel paese un annuncio di ritiro potrebbe arrivare anche dalla Nato l'alleanza atlantica impegnata oggi in una riunione in videoconferenza per un vertice con la partecipazione dei ministri degli estri della difesa appunto dei paesi del Nato l'anticipazione è arrivata dalla ministra tedesca della difesa Annegret Kramp Karrenbauer lo abbiamo sempre detto siamo arrivati insieme ce ne andiamo insieme ha spiegato prima del vertice alleato ecco nella fotografia avevate naturalmente Joe Biden e beh a fronte di un disimpegno dell'Occidente in Afghanistan come previsto nel mese di settembre davanti appunto degli Stati Uniti d'America ma anche della Nato c'è un fronte caldissimo che rischia di aggravarsi e quello ucraino infatti ormai da diverso tempo aumentano di giorno in giorno le truppe militari pesanti russe al confine con il Donbass questa regione dell'Ucraina dove da anni c'è un conflitto a bassa intensità che però da un momento all'altro potrebbe dirompere è a questo che guardano con grande preoccupazione tutti i paesi della comunità internazionale l'Europa a cui si rivolge il presidente ucraino Zelensky ma anche gli Stati Uniti d'America ed è notizia di oggi che forse si sta preparando un incontro tra il presidente americano Biden e il presidente russo Vladimir Putin un faccia a faccia tra Joe Biden e Vladimir Putin da tenere in un luogo terzo in una località neutrale con al centro dei colloqui la questione ucraina tornata nelle ultime settimane di strettissima attualità la possibilità di un incontro a breve tra il presidente americano e quello russo è diventata più concreta almeno stando alle dichiarazioni affidate dal Cremlino al portavoce Dimitri Peskov in risposta alla richiesta avanzata ieri direttamente da Biden a Putin nella prima telefonata tra i due leader dall'insediamento del capo della Casa Bianca a gennaio colloquio arrivato un mese dopo l'intervista nella quale l'ex numero 2 di Obama aveva suscitato l'ira del collega russo definendolo un assassino parlare di questo incontro in maniera concreta è ancora prematuro sottolinea Peskov ma la risposta verrà esaminata attentamente da Mosca che intanto sta ammassando le sue truppe lungo il confine ucraino con migliaia di soldati schierati e le navi che si stanno spostando dal Mar Caspio verso il Mar Nero insomma sembra di essere di fronte ad un rischio sempre più crescente di un nuovo conflitto militare nella regione del Donbass dove oramai si contano ogni giorno nuove vittime negli scontri tra le forze governative e i separatisti filorussi almeno un militare dell'esercito ucraino è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti nelle ultime 24 ore sono in corso verifiche per stabilire se ci siano state vittime anche tra i civili Biden ha avvertito Putin che agirà con fermezza in difesa di Kiev e per questo aumenterà la presenza militare statunitense in Germania profonda preoccupazione per l'aumento del contingente militare russo sul confine orientale ucraino è stata espressa anche dal responsabile della politica estera europea Borrell oltre che dal segretario di stato USA Blinken Ancora una notte di tensione la terza Minneapolis negli Stati Uniti d'America per la questione razziale manifestanti e forze dell'ordine si sono affrontati non si fermano le proteste per la morte del ventenne afroamericano ucciso da una poliziotta che ha impugnato la pistola dice pensando fosse il taser e sparando il colpo che ha poi ucciso il ragazzo ecco vedete le immagini che sono state registrate da una telecamera la gente in questione Kim Potter si è dimessa poco dopo ha rassegnato appunto il proprio tesserino anche il capo della polizia del dipartimento di Brooklyn Center il soborgo alle porte di Minneapolis nel quale Wright è stato ucciso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità al ritorno vedremo notizie sportive ed eventuali aggiornamenti a tra poco eccoci di nuovo qui ripartiamo dallo sport in particolare dal calcio Chelsea e Paris Saint Germain sono le prime due finaliste di Champions League questa sera conosceranno le loro avversarie al termine degli incontri di ritorno dei quarti Liverpool Real Madrid e Borussia Dortmund Manchester City Chelsea e Paris Saint Germain conosceranno questa sera i nomi delle rispettive avversarie nelle semifinali di Champions che usciranno dalle due sfide Real Madrid Liverpool e Manchester City Borussia Dortmund attesissima quella che andrà in scena a Denfield con i Reds di Jurgen Klopp chiamati a ribaltare il 3-1 subito la scorsa settimana a Madrid impresa non facile quella del Liverpool in uno stadio vuoto e senza i propri tifosi verrà arma in più di una squadra in piena crisi nella Premier League dove occupa attualmente il sesto posto lontana nove punti dalla zona Champions di fronte a un Real che come dichiarato da Zinedine Zidane scenderà in campo senza fare calcoli e con la vittoria quale unico obiettivo la squadra è nuovamente in lizza per il successo nella Liga Spagnola a meno uno dalla capolista atletico ma con alle spalle il Barcellona a una sola lunghezza il tecnico ha però dichiarato come entrambi gli obiettivi siano alla portata del suo Real Nell'altra sfida in programma a Dortmund il Borussia cercherà di sovvertire i pronostici che alla vigilia dell'andata in casa del Manchester City lo vedevano senza molte speranze invece la sconfitta di misura per 2-1 lascia ampi margini per sperare in una clamorosa qualificazione a guastare però la vigilia in casa tedesca sono state le dichiarazioni di Minoraio la gente del talentuoso attaccante norvegese che pur prendendo atto dei desideri del club di non voler cedere il proprio gioiello la prossima estate ha lasciato intendere che il futuro del giocatore sarà altro atmosfera senza dubbio più serena quella che si vive in casa del Manchester City archiviata o quasi la pratica Premier League grazie al più 9 sull'inseguitrice United Pep Guardiola guarda questa sfida con serenità annunciando che la sua squadra non scenderà in campo per difendere l'esiguo vantaggio ma giocherà per vincere e poi proiettarsi verso la semifinale contro il Paris Saint Germain e poi c'è Euro 2020 per cui il governo si impegna ad una parziale riapertura dello stadio olimpico a Roma l'esecutivo ha infatti inviato una lettera ufficiale all'UEFA nella quale si conferma questo impegno a garantire la presenza di una percentuale di pubblico del 25% in occasione delle quattro partite del prossimo europeo che sono programmate nel nostro paese come una rovesciata in zona Cesarini la lettera con cui il governo di Mario Draghi si fa garante presso la UEFA della presenza del pubblico alle quattro partite romane e dell'europeo non potrebbe essere meglio rappresentata che con questa metafora calcistica proprio quando le pressioni crescenti sembravano aver messo fuori tempo massimo la nostra federcalcio con una data di scadenza fissata praticamente tra 48 ore l'intervento politico si è rivelato determinante per sovvertire le sorti di un match in cui l'Italia rischiava una sconfitta organizzativa e di immagine la rovesciata di Draghi invece affiancando Roma le altre città europee coinvolte nel campionato dalla formula itinerante ha un duplice effetto l'apertura del 25% dell'Olimpico per il match inaugurale dell'11 giugno così come di quelli del 16 del 19 del 3 luglio non solo salva la federcalcio da un fallimento gestionale ma diventa un poderoso calcio alla paura trasformando l'evento sportivo in un simbolo di rinascita collettiva a giugno l'Olimpico sarà aperto a 17.500 spettatori non solo perché saranno adottati protocolli stringentissimi elaborati con il CTS ma soprattutto perché l'Italia intera sarà già in fase di riapertura generale con un piano vaccinale maturo e curve di contagi sempre più sotto controllo se poi ci si aggiunge che nello stesso gesto atletico metaforico Draghi è anche riuscito a fare il sombrero alla Turchia che con il criticatissimo Erdogan premeva per strappare all'Italia le quattro partite in questione tra cui quella inaugurale proprio tra la nostra nazionale e la Turchia la rovesciata è davvero di quelle destinate a restare negli annali da figurine panini al posto di quella di Carlo Parola di un messaggio di speranza per tutto lo sport italiano ha parlato il presidente del CONI Malagò mentre esulta il presidente Gravina che oggi sarà ricevuto a Palazzo Chigi e che domani incontrerà il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali c'è molto di suo in questa stoccata vincente un incontro in cui sul tavolo non ci sarà solo la definizione del percorso verso Euro 2020 ma anche la richiesta di riapertura degli stadi avanzata ieri dall'assemblea della Lega Calcio da un anno è già predisposto un protocollo per consentire l'accesso ai tifosi della Serie A e di impianti mille anche da subito arrivando al fatidico 25% per le ultime giornate di campionato una richiesta quella della riapertura che non è più solo del calcio ma anche di basket e volley che già stamattina si sono accodati nella perorazione della causa sperando magari che Draghi non debba esibirsi in ulteriori nuove acrobazie in chiusura notizie dal tennis Fabio Fognini si è qualificato agli ottavi di finale del torneo di Monte Carlo l'azzurro numero 18 della classifica mondiale ha battuto 6-3-6-3 l'australiano Jordan Thompson numero 63 del ranking intanto Sinner ha perso 6-4 nel primo set e sta perdendo il secondo 5-2 Sinner gioca contro Djokovic che è il numero 1 al mondo si conclude qui il nostro telegiornale vi ringrazio per essere stati con noi restate sulla 7 c'è Tagadà grazie arrivederci a domani